Come è la questione di ecologia integrale? Ma anche, congiuntamente, da una questione di ecologia integrale. Secondo queste considerazioni, secondo Papa Francesco, è importante che per risolvere la questione ambientale si abbia a disposizione un'ecologia umana, che è disponibile solo quando l'uomo è educato, solo quando l'uomo vive una vita retta, solo quando l'uomo si comporta onestamente, non in maniera utilitaristica, individualistica, ossia con atteggiamenti che distruggono il creato, solo allora si può risolvere adeguatamente la questione ambientale. All'origine della crisi ecologica odierna sta dunque, secondo Papa Francesco, una causa di origine umana. Si tratta in sostanza di un antropocentrismo moderno e del connesso paradigma tecnocratico. Detto diversamente, all'origine della crisi ecologica si avrebbe una causa antropologica, più precisamente, un antropocentrismo deviato che assolutizza il vantaggio dei singoli, la ragione tecnica, sino a ritenere quest'ultima capace di risolvere tutti i problemi e di creare il senso delle cose. Ebbene, di fronte a questa situazione che vede in causa l'uomo, quale cura terapeutica e rigenerativa della cultura oggi dominante, cultura di tipo tecnocratico, consumistico, devastante, che è foriera di ingiustizia e di diseguaglianze? Occorre far leva su una cultura ecologica personalista, aperta alla trascendenza. Solo una cultura così connotata può essere generatrice di un'etica ecologica integrale, ossia un'ecologia secondo cui l'essere umano non è signore assoluto dell'universo, non è totalmente autonomo rispetto ad esso, bensì è un amministratore, deve essere un amministratore, che sa riconoscerne e rispettarne gli ordinamenti intrinseci. Dunque, solo una nuova visione dell'uomo, solo un'umanità nuova, può instaurare una corretta relazione con il creato. Solo ripristinando un umanesimo trascendente, si potrà disporre di una concezione umanista del lavoro, della tecnica, della finanza, e per conseguenza si potrà risolvere la questione ecologica custodendo e coltivando il creato, non depredandolo, rispettandone e sviluppandone le potenzialità a favore della presente e delle future generazioni. Ma dobbiamo domandarci, da dove ci può derivare un nuovo umanesimo trascendente? Da dove può pervenirci la forza rigeneratrice di una nuova antropologia, di una nuova morale per l'attività umana? Secondo Papa Francesco, egli non teme ad affermarlo, esse derivano a noi dalle convinzioni di fede. queste ci offrono una fonte di sapere e un vigor etico che integrano i vari saperi umani, che si sono offerti dalle varie scienze umane, integrano le forze morali dell'uomo. Secondo Papa Francesco, le convinzioni di fede, che completano le nostre conoscenze, che irrobustiscono le nostre energie morali, sono contenute sia in quello che lui chiama Vangelo della creazione, sia nel Vangelo della redenzione. Entrambi questi Vangeli che si integrano tra di loro aiutano a superare l'antropocentrismo dispotico, ovvero la tentazione che ha l'uomo di pensarci onnipotente, riducendo tutto il creato a materia manipolabile. Inoltre immettono in una prospettiva di fede secondo cui il creato dopo il peccato è assunto, attirato nella sfera della nuova creazione che gli ha inaugurato con la sua incarnazione, morte e risurrezione. Il risorto avvolge misteriosamente le creature e le orienta a un destino di pienezza. Per capire questo ci può venire in aiuto un dipinto del Beato Angelico nella sua famosa opera pittorica che raffigura il risorto incontrato e riconosciuto da Maria Maddalena con la zappa in spalla. Ecco il punto. Dopo la sua morte e risurrezione Gesù Cristo non ha lasciato il mondo. Egli è ancora presente nella storia dell'umanità. È al lavoro. Egli appunto come dice la zappa sulla spalla continua a perfezionare, a completare la nuova creazione che è venuto a iniziare con la sua incarnazione e che ha proseguito con la sua morte e risurrezione. Per quanto sin qui detto Papa Francesco ci fa capire che nella soluzione della questione ecologica questione di ecologia integrale in cui ecologia umana e ecologia ambientale formano un tutt'uno è cruciale e decisiva la fede nel risorto. Mediante una fede che contempla il risorto e lo incontra nella storia si raggiunge un punto generativo di nuovo pensiero, di nuova cultura davvero unico è dalla fede nella redenzione di Cristo che scaturisce un nuovo umanesimo trascendente e di conseguenza una nuova visione del lavoro della tecnica, della finanza, dell'economia della politica, dello sviluppo non in quanto fini a se stessi ma quali realtà ministeriali alla pienezza umana in Dio delle persone, delle famiglie e dei popoli quanto affermato da Papa Francesco è oggi particolarmente fecondo e creativo dal punto di vista sociale a questo punto potremmo dire che il fattore rigenerante del vivere sociale come anche il fattore compattante è un'ecologia integrale in definitiva è la fede in Gesù Cristo in Gesù Cristo risorto per cui possiamo anche dire concludendo il discorso che se noi desideriamo rinnovare la nostra cultura realizzare un'ecologia integrale dobbiamo ritenerci impegnati in una nuova evangelizzazione che ha al centro l'annuncio di Gesù Cristo risorto all'opera nella storia umana come colui che completa la nuova creazione che è venuto a iniziare con la sua incarnazione con le precedenti riflessioni ci siamo mossi per trovare dei punti di rigenerazione della cultura odierna relativa all'ecologia integrale giacché la cultura odierna è in crisi e pertanto c'è bisogno di rigenerare la cultura per avere a disposizione degli strumenti critici di interpretazione e di soluzione dei problemi delle realtà che siano corrispondenti alla complessità della crisi ecologica integrale ecco proprio così la crisi ecologica di oggi è una crisi di ecologia integrale pertanto c'è bisogno di soluzioni integrali ossia soluzioni che tengono in conto del fatto che non vi è una crisi ambientale da una parte e una crisi sociale dall'altra bensì c'è un'unica crisi socio-ambientale che tocca vari piani di esistenza proprio per questo le soluzioni vanno ricercate su più livelli di azione e in particolare vanno cercati sul piano internazionale facendo leva su un consenso mondiale sul piano di vertici mondiali che siano però efficienti e non inconcludenti sul piano delle politiche nazionali e locali e da ultimo sul piano di una democrazia dal basso e su una cittadinanza attiva considerando proprio questo ultimo livello Papa Francesco auspica la nascita di movimenti ecologici mondiali e nazionali composti da cittadini in quanto tali da imprenditori da consumatori da famiglie dalla società civile e questi movimenti dovrebbero essere secondo lui sostenuti dal dialogo delle religioni perché? perché le religioni in se stesse offrono un'apertura verso la trascendenza che è il punto di riferimento fondamentale per rigenerare come abbiamo detto precedentemente la cultura e cioè avere a disposizione un umanesimo trascendente non solo dunque sorretti da un dialogo delle religioni in questi movimenti ecologici mondiali e nazionali ma anche accompagnati da una grande opera di educazione qui sorge subito un interrogativo quale educazione dal momento che noi sappiamo che la stessa educazione è in profonda crisi ebbene l'educazione di cui noi necessitiamo non deve limitarsi semplicemente a offrire nozioni scientifiche o a prevenire rischi o a riparare danni la vera educazione deve educare il senso critico e quindi deve includere la critica ai miti della modernità che sono basati su una ragione strumentale non tanto su una ragione pensante e su paradigmi scientisti deve aiutare a recuperare i diversi livelli di equilibrio ecologico e a fare quel salto verso il mistero che consente di dare un fondamento profondo all'etica ecologica l'obiettivo dell'educazione quale può essere come potrebbe essere definito potrebbe essere precisato così è quello di formare una cittadinanza ecologica cittadinanza ecologica sostanziata da solide virtù che abilitano un impegno disinteressato e costante a tutta una serie di piccole azioni quotidiane facciamo degli esempi cioè azioni che sono volte ad evitare l'uso di materiale plastico lo spreco di carta a ridurre il consumo dell'acqua a differenziare i rifiuti a cucinare solo quando ragionevolmente si può consumare a spegnere le luci inutili a riciclare le cose invece di disfarsene a trattare insomma con rispetto gli altri esseri viventi ed anche a piantare alberi una solida educazione ecologica è dobbiamo dircelo talora ultima chance cioè l'ultima spiaggia che abbiamo a disposizione e questo quando quando per l'appunto imperversano comportamenti illegali quando l'amministrazione degli stati non funziona quando nella società civile e tra i cittadini non esiste una moralità non si osserva la legalità ebbene in questi casi appunto sorgia il problema le leggi seppure formate correttamente emanate correttamente ecco perché rimangono spesso lettera morta se non basta una legislazione chiara per la protezione dell'ambiente di una foresta come avviene spesso in Brasile o anche della salute pubblica come in Italia nella terra dei fuochi di che cos'altro c'è bisogno secondo Papa Francesco c'è bisogno proprio di una vita buona una vita buona che si struttura mediante l'educazione alle virtù e si impernia attorno alla legge morale naturale che è scritta nella coscienza di ogni uomo e attorno alla nozione di bene comune che possiamo considerare un principio centrale dell'ecologia sociale e della stessa ecologia integrale proprio il riconoscimento del primato del bene comune aiuterà i cittadini e la politica a non cedere alla corruzione all'illegalità agli interessi utilitaristici particolaristici solo se il bene comune viene posto al centro dell'azione politica e delle società civili si può superare il dramma di un agire delle istituzioni focalizzato su risultati immediati è importante anche elencare i luoghi dell'educazione cioè i luoghi educativi sono vari li elenchiamo la comunità cristiana la scuola la famiglia su cui si ritornerà a breve i mezzi di comunicazione la catechesi oltre naturalmente i seminari le case religiose le università è in questi luoghi soprattutto che si deve puntare alla formazione della coscienza sociale ed ecologica ad una austerità responsabile a pensare alla fraternità alla destinazione universale dei beni e anche non sembri l'ultima cosa ad una contemplazione del mondo colma di riconoscenza nei confronti di Dio bisogna anche pensare alla cura per la fragilità dei poveri e dell'ambiente possiamo dire che l'educazione ecologica ha il suo perno il suo fulcro in quella spiritualità ecologica di solito noi quando parliamo dell'ecologia poche volte accenniamo alla spiritualità che però è un perno centrale e questa spiritualità proprio da quello che abbiamo detto possiamo dedurre che trae le sue energie dalle convinzioni della nostra fede dalle convinzioni di fede di cui abbiamo già parlato ebbene la grande ricchezza che la spiritualità cristiana ci offre è un magnifico contributo alla realizzazione dell'ecologia integrale dobbiamo tenere presente proprio questo che la spiritualità specificamente cristiana fa sì che noi possiamo essere in grado di offrire un apporto che nessun altro può offrire ed è un apporto ecco che può essere disponibile per noi quando ci consideriamo viventi radicati in Gesù Cristo questa nostra vita di di permanenza in Cristo di assimilazione a Cristo ci offre le motivazioni più profonde perché nei comportamenti nelle condotte non bastano le idee avere delle idee chiare occorre possedere una vera e propria passione per la cura del mondo inoltre questa spiritualità evidentemente proprio perché spiritualità cristiana che considera la correttezza o no dei nostri rapporti con noi stessi con gli altri e soprattutto con il creato sollecita una conversione ecologica personale ma anche comunitaria e questo a partire da che cosa dalla considerazione della nostra vocazione ecologica in Cristo noi in quanto inseriti in Cristo partecipi della sua vita di lui che ricapitola in sé fa nuove tutte le cose noi possediamo una vocazione ecologica inoltre la spiritualità può aiutarci a comprendere che non basta essere buoni da soli singolarmente separati gli uni dagli altri ma per essere più efficaci per costituire massa critica nella società occorre che noi rispondiamo ai problemi sociali attraverso delle reti comunitarie e con una conversione come si accennava altrettanto comunitaria così la spiritualità cristiana sollecita un modello alternativo di intendere la qualità della nostra vita incoraggia uno stile profetico contemplativo il ritorno alla semplicità che permette di fermarci a gustare le piccole cose ci permette di realizzare una sobrietà liberante così la stessa spiritualità cristiana sospinge le varie associazioni di ispirazione cristiana o cristiane che intervengono a difendere l'ambiente naturale anche quello urbano prendendosi cura di fatto di un luogo pubblico un edificio una piazza una fontana un monumento abbandonato un paesaggio una chiesa invita a muoversi e organizzarsi per costruire sul territorio un nuovo tessuto sociale che permetta di coltivare un'identità comune e di condividere una storia che si conserva si trasmette ecco si è detto prima che tra i vari luoghi educativi in cui si genera e si plasma una nuova cultura a servizio dell'ecologia integrale vi è da porre anche la famiglia che noi sappiamo essere soggetto base della società civile ora evidentemente qui apriamo un discorso molto ampio ma noi ci fermiamo a sottolineare l'importanza e la decisività della famiglia perché come ebbe a scrivere Giovanni Paolo II nella sua enciclica Centesimo Sanus la famiglia è la prima fondamentale struttura a favore dell'ecologia umana e della salvaguardia dell'ambiente e quindi dell'ecologia integrale potremmo dire e la consideriamo la famiglia oltre che come struttura a favore dell'ecologia umana come soggetto politico dei territori locali quando appunto i vari soggetti sia sul piano internazionale come sul piano sul piano nazionale i vari politici i vari amministratori non si mostrano all'altezza di ciò che debbono fare per tutelare per custodire e promuovere l'ecologia integrale ecco l'importanza della famiglia e anche in questo caso non da sola ma associata messa in rete con altre famiglie ebbene la famiglia chiamata in questi casi proprio a fare la differenza e questa differenza è possibile in maniera più efficace unendosi in modo particolare c'è da tenere presente che è bene che noi consideriamo la famiglia non solo come soggetto politico come soggetto che deve animare la società civile e quindi è chiamato a sollecitare dal basso nuovi regolamenti vigilanza sull'applicazione delle norme a lottare contro la corruzione e la illegalità a mobilitarsi per la democraticità e la trasparenza dei processi decisionali ma dobbiamo considerarla anche dal punto di vista della sua situazione allorché è collocata in ambito rurale per noi anche nella tradizione cattolica hanno un ruolo rilevante importante le famiglie rurali delle quali purtroppo si parla troppo poco queste svolgono una servizio importantissimo le famiglie rurali noi lo sappiamo nei documenti delle istituzioni internazionali sono censite così nominalmente non sono considerate e valorizzate per il loro contenuto sociale per la loro funzione sociale ecco è bene invece che noi nel contesto attuale soprattutto nel quale noi vediamo gli ambiti rurali in decadenza come anche le colline e anche nelle zone di montagna le famiglie rurali hanno una grande funzione da svolgere e dovremmo dire allora se le famiglie rurali sono particolarmente utili noi dovremmo anche come comunità e casiani rilanciare quella che era l'evangelizzazione in ambito rurale e pertanto al giorno d'oggi attivare una nuova evangelizzazione in ambito rurale vogliamo cercare dei punti di rigenerazione della cultura ecologica anche a livello di economia perché noi sappiamo che l'economia qualora sia subordinata alla ricerca del profitto per il profitto o agli interessi finanziari naturalmente non si realizza in maniera di ministerialità nei confronti della salvaguardia e anche della coltivazione di un'ecologia integrale l'ambiente dobbiamo sottolinearlo è uno di quei beni che i meccanismi di mercato non sono in grado di difendere e promuovere adeguatamente perché? perché il mercato tende a pensare che i problemi anche quelli ecologici si risolvono soltanto con la crescita dei profitti delle imprese e degli individui in realtà all'interno dello schema della rendita non c'è posto per tener conto dei ritmi della natura dei suoi tempi di degradazione e della complessità degli ecosistemi la cura degli ecosistemi ad esempio richiede uno sguardo che vada al di là del risultato immediato nel più breve tempo possibile perché quando si cerca solo un profitto economico rapido non interessa la preservazione dell'ecosistema in ultima analisi se noi vogliamo parlare di un'economia di una finanza funzionali all'ecologia integrale dobbiamo abbandonare gli schemi culturali legati al capitalismo finanziario e al paradigma tecnocratico che assoggettano la politica l'economia stessa la finanza alla logica di una speculazione senza limiti è una ragione strumentale bisogna allora in particolare ripensare il modello di progresso e di sviluppo quale perseguito dal mercato dall'economia che persegue il profitto per il profitto senza tener conto della sua responsabilità sociale ed ambientale è necessario allora farsi una domanda quale economia è generativa e funzionale ad un'ecologia integrale di quale visione di progresso noi abbiamo bisogno per realizzare un'ecologia integrale e poi anche quale visione di progresso ebbene noi abbiamo bisogno di un'economia che tenga conto delle preoccupazioni ecologiche ossia un'economia ecologica ed anche dice Papa Francesco di un'economia circolare fermiamoci da prima a considerare l'economia ecologica ebbene l'economia ecologica non considera la realtà in una maniera consumistica distruttiva sfruttatrice e quindi non la considera solo dal punto di vista del suo uso immediato ma la considera anche dal punto di vista della sua destinazione universale cioè l'economia deve tener conto dell'ambiente in quanto questo è destinato a tutti deve tener conto del creato che è destinato a tutti e quindi occorre che l'economia sia organizzata in modo tale che si mantenga il creato in uso il più lungo possibile l'economia deve fare in modo che il creato sia coltivato migliorato portato al suo compimento che cosa dobbiamo intendere per economia circolare bene l'economia circolare è quella economia che a conti fatti include un sistema industriale che alla fine del ciclo di produzione e di consumo prevede la capacità di riassorbire rifiuti e scorie perché tutto ha un valore pertanto va adottato per l'appunto un modello circolare capace di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future e che richiede di limitare al massimo l'uso delle risorse non rinnovabili richiede di moderare il consumo di massimizzare l'efficienza dello sfruttamento richiede la riutilizzazione di determinate risorse veniamo all'altra domanda cioè di quale modello di sviluppo noi abbiamo bisogno perché si realizzi un'ecologia integrale Papa Francesco parlando di un nuovo modello di sviluppo giunge a proporre nuove modalità cioè quelle di un progresso sostenibile integrale secondo il pontefice non si tratta di non sviluppare più di non crescere nello sviluppo non si tratta di abbandonare irrazionalmente l'idea di sviluppo bensì si tratta di convincersi che rallentare un determinato ritmo di produzione e di consumo irresponsabile e dissipatore può dar luogo ad altre modalità di progresso detto diversamente non si tratta secondo Papa Francesco di rinunciare alla crescita bisogna puntare la cresta ma si tratta di realizzarla in maniera diversa da come la si sta realizzando ora cioè consumando eccessivamente le risorse inquinando ossia non rispettando l'ambiente non portandolo a compimento non sviluppando tutte le sue potenzialità un modo per usare meglio dell'ambiente sarebbe quello di cambiare decisamente sia pure con una certa gradualità i combustibili fossoli sviluppando fonti di energia rinnovabile in sostanza per Papa Francesco occorre aprire la strada a differenti opportunità che non implicano il congelamento della creatività umana il blocco della creatività umana e il suo sogno di continuo miglioramento ma piuttosto incanalino le sue preziose energie in altre strade in modo diverso in modo nuovo un percorso di sviluppo più creativo e meglio orientato ecco potrebbe generare forme intelligenti e redditizi di riutilizzo di recupero funzionale e di riciclo potrebbe migliorare l'efficienza energetica delle città di fronte a una crescita avida e irresponsabile come quella odierna si tratta dunque non solo di trovare nuove vie ma anche talvolta di ritornare sui propri passi prima che sia troppo tardi peraltro questo l'aveva già suggerito Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in Veritate laddove afferma che è necessario che le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti caratterizzati dalla sobrietà e questo come diminuendo il proprio consumo di energia migliorando le condizioni del suo uso dell'uso dell'energia in definitiva si tratta di diminuire la trasformazione e la produzione in eccesso di tipo consumistico per evitare sprechi e utilizzi delle risorse che avvengono senza tener conto dei limiti di queste e delle conseguenze negative per il genere umano e per l'ambiente l'economia non può illudersi di contraddire le leggi della fisiologia secondo la quale nessuna crescita può essere illimitata allora qual è la proposta di Papa Francesco è quella di produrre trasformare e consumare in maniera da non impoverire il mondo delle risorse necessarie a tutti dando invece luogo ad altre modalità di sviluppo rispetto a quello consumistico e predatore per quanto abbiamo detto sino qui si può concludere affermando che l'ecologia integrale di cui ha bisogno il pianeta e l'umanità è il risultato di una cura costante di una responsabilità incessante che risponde a un dono affidato da Dio all'umanità questo dono è il dono del creato a questo dono del creato corrisponde una vocazione quello della custodia della coltivazione del compimento del creato pertanto la nostra vita si configura come un tempo di cura che sollecita a vivere con fraternità giustizia sobrietà ancorati a una speranza alimentata dalla nostra fede in particolare dalla fede in Gesù Cristo risorto che è all'opera nella storia nel creato e che sollecita tutti noi a partecipare alla sua nuova creazione di Gesù Cristo e che sollecita a vivere a vivere in particolare Grazie a tutti.